Eccosi, Narcissus pulchomidium Narcissus pulchomidium E lei è una pianta della famiglia dell'acea Puncio E questa è la descrizione giusta ma non pare Questa pianta Tutta sta parte C'è l'acqua Narcissus pulchomidium Dice bulbosa famiglia I fiori sono gialli sia coralla che paracolla e fogli sono stretti e verdi il bulbo ha forma sferica Distribuzione Arriba abitata L'area di questa specie è distretta da parte della settentrione di Spagna e Portogallo Spagna La Spagna deve essere tutta questa ma guarda tutti questi verdi se li ha presi lei prima tutto questo tutto questo si è preso lei che bastarda bastarda bastiana si è presa pure l'Italia vabbè pure le isolette sue le ha conquistata ha conquistato l'Italia Portogallo Portogallo fa schifo Portogallo 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 l'Ibri di Lord tazetta l'Arcisu uccitata bolt e jack spine dette a a tette, narcisus tette a tette, ha creato tette a tette, bello, tette a tette, originaria della spagna, che deve essere questo, ma come bastarda che si è preso tutto, è della Francia, è stata introdotta in Turchia, Turchia ha lasciato il suo spazio dove non l'ha toccato quello degli altri, eh, finito, sì, merda, narcisus pulbonicum, narcisus circlamea, narcisum giunquilla, narcisus giunquilla, è una pianta bulbosa della famiglia della miralce diffusa di Spagna e Portogallo, perché Portogallo non deve stare, ma dove deve stare, te lo infilo del sedere quella penna che mi hai dato ieri, è alta 30 centimetri con fusti e a fogli cilindriche, presenta fiori larghi 4-5 centimetri formati da perigogno e corana bassa di colore giallo intenso particolarmente profumati che sbocciano il numero, il numero di uno e più perfusto, il nome Venacolo giunquilla viene altresi assegnato frequentemente ai fiori secenne giunquilla e a quali delle specie simili a narcisus tazzetta, narcisus tazzetta, eh, narcisus tazzetta, cento euro, cento euro, narcisus tazzetta, tazzetta, ma sei pazzo? narcisus tazzetta, 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 Narciso Selvatico Narciso Poeticus è una pianta erbaceo e una pianta erbaceo bulbosa della famiglia delle ammire alleacee. Albania? Non ha preso nulla l'Albania, giusto? Eh no, se non mi incazzizza. Spostati scherzo. Andorra? Dove è Andorra? Eccola Andorra, non ha conquistato nulla, povera, 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 povera. Andorra, 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 Austria. Cresce in parti erbose ed un'intenzione a Austria, Francia, Grecia, Svizzera, Spagna, Ungheria, Italia, Roma, Romania, Ucraina. E' stato posteriormente introdotto in Belgio, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Germania e Colombia. Austria. Ha conquistato tutto, pure la Francia. Lei non è stata a posto per tutto questo. Poi è andata a prendersi, ha creato lì, ha detto, tagli dammi quella seduta e taglio il collo. Siamo andati con i fucili ma loro ci hanno assaltato, schifosi dei babbani dei vostri papà. Siamo andati con i fucili ma loro ci hanno assaltato. Siamo andati con i fucili ma loro ci hanno assaltato. Siamo andati con i fucili. Siamo andati con i fucili. Siamo andati con i fucili. Dopo Grecia ma si è conquistato tutto per nessuno la caga. Guardate ma lei ha conquistato tutto, tutto, tutto. Si è presa tutto questo. E come bastarda che si è andata a rompere il cazzo. Scusate per le parolacce ma mi arrabbi un sacco e vorrei rompere la mamma qualunque cosa. Guardate, lei è stata a posto. Lei è stata a posto, non ha messo le mani avanti. solo l'Italia può mettere le mani avanti e fa schifo. Spagna fa schifo. Ungheria, 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 Ungheria. Guardate quello non è suo, non è suo. Italia ha conquistato tutto. Romagna, eccola qua. non ha conquistato nulla e non ha cagato. Ha conquistato tutto scherzato. Regno del Belgio? L'Ucraina va bene. Ha preso questo. Un po' di Russia. E ha preso tutto questo. Belgio? Non è stata a posto nemmeno lei. L'Italia si è conquistata tutto. La Bretagna è grande. Non si vede in carta della Repubblica cieca. E non lasciava le mani a posto. Columbia. Verde scuro. Ah, è l'Unione Europea. Verde chiaro. Ecco. E' in Colombia. Prima era così, giusto? Credo che poi si è andata a conquistare. Andiamo, andiamo, andiamo in comanda. No, guardate. Mi sa che prima era qui. Poi è andata a rompere il K. Ah, e questi si è andata a prendere qua. E gli altri militari sono andati da sta parte. Tutti nella stessa parte, tranne questa, che si è andata a rompere le palle a questo posto. E poi si è andata là. Questo che non era a posto l'hanno fatto fuori. Dati che ho detto che la America occidentale si mi rompe il K. E che si distrugge. Quelli hanno distrutto la base. Poi sono andati ancora avanti, avanti, avanti. E poi hanno avuto difficoltà. No, avevano già preso tanto. Guardandosi dietro hanno visto l'Apocalisse. Sono andati... Ne... Sono andati a recuperare bande. Hanno fatto fatto tutto questo. Poi sono tornati dall'America occidentale. Hanno rotto le palle e hanno preso questo. E' strana, eh? No, devo rifarla a tutte al bagno. Lei era prima questo pezzettino qui. Poi è andata a conquistare questa parte e non è successo nulla. Poi andando da questa parte... Ne sono crepati un sacco. Poi facendo tutta questa strada tagliando metà... per poi essere... aver bloccato quella e l'altra parte che volevano conquistare. Sono andati piano piano a conquistarla. Fatto, finito e vaffanculo. Andora... Lei è così ed è rimasto così. Era così ed è rimasto così. Era così ed è rimasto così. Austria. Era prima quello. Già tanto. Poi è andato a prendersi tutto questo. Tutto questo. Poi è andato indietro. È andato e si è preso questo. È andato, è andato avanti. Sono andati a tagliare metà. Così hanno bloccato quella e l'altra squadra. Allora sono... Era un'armata molto spessa. Sono andati a combattere alcuni. A conquistare questa parte. Sono molti in pochi a prendere quella parte. Allora sono andati a far fuori tutti. Poi si sono ricongiunti con questi. E sono andato... Andati a rompere il culetto agli altri. Nooooooo! Lo veicolo che mi piaceva un chacco. S'occhio. Tocano l'archizzazione. Segui, tocchi, tocchi, tocchi. Poi, cosa c'è qua tra... Lalalalalala... Ero... Che? L'Europa occidentale. Ero... Ero... Ecco. La specie originaria dell'Europa occidentale. Tutta questa qua è l'Europa. Occidentale. Occidentale. Spagna. E... E... Ok. Tutto questo. Ancora non avevo conquistato nessuna isola. È andata a prendere quelle due parti d'isola. Sono andata con le lonci. Li hanno minacciati. Li hanno minacciati. Ho minacciato pure questi. Ed è stato facile. Ma poi sono andata in un'isola un po' più grande. Ce l'hanno rotto. E poi era quelle. Le palle. E hanno rotto. Le palle. Le palle. Di... Far... Quegli altri erano molto piccole e facili. Germania. Ero stata la poverina. Inghilterra. 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 Ehi. 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 Sono... Sono questi. Le altre parti. Non so di chi. Ehi. Scusate. Scusate. Galles. I galles. I galles. I galles. Mi mangio galles. Portogallo. Ehhh. Balcani. Che sono dei maledetti babbani. Australia. Si è andata a rompere le palle di un'isola. Nuova Zelanda. Caucasus. Madera. E tante tante. New Morse National Park. Palle. Glucosio. Stiresia. Glucosio. Stiresia. Mi ha rotto le palle. Teresa. Mi ha rotto le palle. Mi ha proprio rotto le palle. Tazzetta. La tazzetta. La tazzetta. Ehhh. Il mio piccolo tazzetta. V spendito le palle. Tazzetta. 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 Timmologia. Descrizione. Distribuzioni. nel bacino e guardate al stati albania algeria e bonstock albania non è andato a nessuno il cipro guardate povera 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 deve sfidare qualcuno per prendersi altro verde repubblica del cipro mentre in cipro del nord è croazia tutta questa qua l'hanno cercata povera mi sa che li hanno preso pezzi egitto guardate guardate così li hanno tagliato una bella pette bloccata e nella cacca si sa qui e c'è un piccolo problema è un piccolissimo spazio e ciao ciao tutti questi questi e questi vogliono la fra che guardate se l'hanno già mangiato dei pezzettini guarda l'italia guarda povera italia che che la francia ha mangiato dei pezzi dell'italia mentre qui a spagna stanno facendo non stanno facendo lavoro pulito devo combattere un po di più la spagna per bloccare da qui almeno che poi ci pensa l'italia maria vai su di gbaglia qui si vede grande ma da qui qui cazzo tua di merda no e non si vede poi dopo grecia la grecia e guardate guardate qui date qui questa qua ha rotto le palle che ci viene mangiata mangiata a pezzi israele israele si fa i cazzi suoi poi italia si fa i cazzi suoi ma tutti la blocca guardate che l'hanno bloccata guardate non tutti tutti non ha rotto a nessuno poi c'è la serie vicino 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 libia l'ho sentita molte molte volte viene a viene a cerchiare guarda viene mangiata non c'è nessuna parte piccola tutte parte grossa ombra il can a qualcuno sotto l'italia non rompe a nessuno il can a malta marocco dove è il mio amico guardate qui 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 sta combattendo guardate qui adesso è uno spazio piccolo ma questo qua viene rivendicata solo in parte e viene controllato solo in parte monaco 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 e piccolissimo monaco monaco ingrandisciti un po montenegro è un po grande e viene a cerchi e viene a cerchiato dopo non ci sarà più il montenegro palestina striscia di gazza in verde scuro territori controllati in verde chiaro territori rivendicati ma controllati da israele bene questi qua questi qua sono soltanto quelli che è rimasto della palestina ma tutti gli altri che avevano rivendicato raffanculo che sta controlando e vieni unito va bene guardate a me non viene tranne una piccola parte la siria guardate dice qualcuno che gli rompe il povero cazzino se per l'italia prendiamo l'aereo io una volta ho preso l'aereo di di milano per poi riparmi prembatti di sopra per poi ripartire riprendere per prembatti di sopra e di andare qui lì proprio lì proprio lì non volevo spagna slovenia viene a cerchiato da tutti spagna tunisia quindi arabo arabo c'è la scritta arabo 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 altra lingua francese capitale tunisia tunisi l'ultimo turchia turchia non viene a cerchiato da nessuno mi sa che finiamo il video se non viene il narcisus evidente però '